Pochi minuti prima dello spettacolo, questa sera al Padova Jazz Festival, che show ci aspetterà? Innanzitutto il concerto, come annunciato, è dedicato a uno dei padri del sossofono jazz ed è Coleman Hawkins. Perciò diciamo che partirà un po' dall'impronta e dall'influenza di questo grande maestro della musica jazz. Ti devo dire che sono molto onorato di suonare con questo gruppo, che sono amici con i quali già suoniamo insieme, soprattutto io e Willie Jones abbiamo suonato per molto tempo con C.D. Walton, uno dei nostri grandi maestri. Eric è una persona, un fantastico pianista, incredibile, che io conosco da diversi anni, ma è la prima volta che facciamo un tour così lungo insieme. Derson è uno dei giovani contrabassisti migliori sulla sede di New York, perciò devo dire che il gruppo... Io penso che ci aspetteremo un bel concerto alla fine se tutto funziona, perché è veramente un gruppo eccezionale. La musica, come ti dicevo, sarà dedicata soprattutto a Coleman Hawkins e faremo una dedicata a C.D. Walton, che è stato un mentore un po' per tutti noi, sia per Willie che per tutti gli altri. Spesso abbiamo suonato anche negli Stati Uniti insieme in varie situazioni, sai come funziona lì, che magari una sera ti trovi, ti trovi da zona al basso o Eric al piano, non lo sapete. Perciò ci siamo incontrati sempre, voglio dire, in questi anni. Questa è la prima volta che abbiamo formato però questo gruppo fisso, che porteremo avanti, anzi la nostra invenzione è anche quella di registrare un disco, perciò vogliamo portare avanti in un futuro proprio questo gruppo. Ed è la prima volta che veramente abbiamo deciso di fare questo progetto tutti e quattro insieme. È la prima data del tour che vi porterà in diverse città d'Italia, sempre con questa formazione e sempre con questa proposta musicale. Sì, diciamo che il tour è proprio una dedica che abbiamo voluto fare a questo grande musicista che è stato con le Manokins, toccheremo anche la Germania e la Croazia e poi di che a fine mese finiamo questo tournere. Bene, allora in bocca al lupo per questa sera e siamo veramente curiosi di vedervi sul palco. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.